È tornato l'Arezzo Classic Motor, la mostra a scambio più attesa dell'intero centro Italia quest'anno in edizione estiva dopo lo spostamento causato dalla pandemia. All'Arezzo Fiede Congressi per tutto il weekend si sono così riuniti gli appassionati per questa ventitresima edizione della manifestazione. È la prima che si fa dopo un anno e mezzo di problemi vari che abbiamo avuto, per cui grande apprezzamento per gli organizzatori che hanno avuto il coraggio di programmarla e qui oggi si sono ritrovati appassionati di auto d'epoca, appassionati di mille miglia che guardano queste vetture, guardano i pezzi di ricambio e si confrontano. Per cui un appuntamento molto importante perché questa è la nostra cultura, è la cultura dell'industria italiana, industria europea, ma veramente che ci appartiene molto. Anche per questa edizione di Arezzo Classic Motor presente la polizia di Stato con alcuni dei veicoli storici provenienti dal Museo delle Auto della Polizia di Roma e una serie di motocicli in motoguzzi della polizia rigorosamente con i colori di istituto. I mezzi del museo, come vedete, spaziano dagli anni 50 sino ai modelli attuali e abbiamo una rassegna di motoguzzi, poiché quest'anno ricorre il centesimo anniversario dalla fondazione della motoguzzi, che ha una storia importante durata quasi 60 anni con la polizia e abbiamo appunto esposte le moto che hanno più rappresentato la polizia e la motoguzzi negli ultimi 50-60 anni.